Per raggiungere dei risultati in qualsiasi ambito della vita è necessario cambiare. Il cambiamento infatti è alla base della storia che vi racconterò oggi, cioè la storia della mia vita. Tendenzialmente sono sempre stato una persona molto introverso, ho fatto vari speech, ma ho sempre parlato in maniera tecnica del mondo dei social. Questa è la prima volta che in qualche modo parlo di me e della mia esperienza e per farlo ho deciso di farlo su un palco importante come questo. E vi giuro che non mi hanno pagato per dirlo. Qual è il mio più grande risultato raggiunto? Non sono stato sulla luna, non ho trovato la cura di qualche malattia, non ho fatto niente di tutto questo. Io ho creato una pagina di meme. Il mio più grande risultato raggiunto infatti è aver creato il progetto di Legolize. Per chi non lo conoscesse, Legolize è una pagina umoristica nella quale creiamo delle vignette in cui gli omini Lego parlano tra di loro creando situazioni divertenti, battute e attualmente insomma abbiamo raggiunto risultati veramente interessanti tanto che tra le varie piattaforme, tra i suoi vari social, abbiamo una community di quasi 2 milioni di utenti quindi un sacco di persone sono interessate al nostro progetto. Voglio sottolineare inoltre che il successo del progetto non è solamente merito mio sono con altri due ragazzi che insomma creiamo i contenuti e lavoriamo a tutto quanto che sono Pietro e Samuele insomma che saluto. Però oggi non sono qui per parlare di Legolize o almeno non solo di questo ma di tutto il percorso, di tutto la strada che ho seguito ricca di cambiamenti che mi ha permesso di raggiungere questi risultati e alla fine di diventare anche la persona che sono adesso. Nella mia vita ho sempre avuto due modi diversi di vedere le cose, o bianco o nero. Da una parte ci sono le cose che non mi piacciono, per queste cose proprio non riesco a impegnarmi e di conseguenza non ci dedico nessuno sforzo. Questo è stato l'esempio della scuola, non della scuola in generale ma del percorso di studi che ho scelto alle superiori, che era informatica. E mi era iscritto con il mito di se vado a fare informatica probabilmente giocherò con i videogames tutto il giorno. Grande bugia, non è stato assolutamente così. Mi sono ritrovato in una scuola nella quale le materie di indirizzo non mi piacevano, non mi prendevano e di conseguenza ci dedicavo veramente pochissimo impegno e poco sforzo diciamo tanto che ho anche perso un anno tra le varie cose. E questo è stato il primo approccio. Dall'altra parte ci sono le cose che mi piacciono. Per queste cose veramente ci dedico tutte le mie energie, mi sveglio la mattina con un obiettivo e trovo che sia anche uno dei motivi per cui valga veramente la pena vivere la vita e svegliarsi con un sogno da raggiungere, con qualcosa che ti piace e a cui dedichi veramente tutte le tue energie ogni giorno. Nel mio caso ho trovato questa valvola di sfogo nel portare della leggerezza sui social creando appunto contenuti divertenti. Ed è proprio questo il motivo, la causa che c'è dietro insomma il nostro successo sui social. Il fatto di fare qualcosa che ci piace. Quindi grazie a questa passione appunto che ci spinge a creare contenuti ogni giorno stiamo raggiungendo questi risultati. In generale questo dualismo, questo vedere le cose o in bianco o in nero in qualche modo mi ha spesso spinto a cambiare quello che stessi facendo in quel momento. Quindi cambiare completamente dove mi trovavo, che fosse studio o lavoro insomma. Ecco magari adesso so già che starete immaginando una persona che si sveglia da un giorno all'altro e ti visualizza e non ti risponde su Whatsapp. Non intendo assolutamente questo. Semplicemente se mi trovo in una situazione in cui non mi trovo a mio agio faccio di tutto per trovare la posizione più giusta per me. Per questo non ho appena finito le scuole superiori e insomma avevo tutti i miei compagni che in qualche modo avevano già la strada delineata verso studi di informatico, di ingegneria e io che avevo visto solamente quelle materie e non mi piacevano non sapevo che cosa fare della mia vita. Quindi insomma con l'idea di non perdere ulteriore tempo e soprattutto con mia madre che mi diceva fai qualcosa della tua vita ho deciso di buttarmi subito nel mondo del lavoro. Qui c'è stato il primo cambiamento importante della mia vita e in questo caso è stato anche piuttosto drastico. Infatti dopo pochi mesi mi sono ritrovato in uno studio commercialista e a inserire delle fatture, a gestire la contabilità di varie aziende e quindi una cosa molto diversa rispetto a quello che faccio adesso. Per me era un mondo completamente nuovo oltre anche a essere la mia prima esperienza lavorativa. Devo dire che i colleghi in generale erano tutti abbastanza gentili e disponibili con me solo che in qualche modo appunto avevo cambiato completamente quello che stavo facendo in quel periodo e il cambio è stato anche piuttosto repentino, molto veloce. E devo dire la verità, ripensare in questo momento alle fatture, agli 730, agli F24, mi vengono ancora i brividi. Quindi la situazione in qualsiasi caso non era così spiacevole però al tempo stesso sentivo che mi mancava qualcosa, sentivo che ero limitato. E quindi in qualche modo mi sentivo un po' al limite. Facendo un passo indietro, guardando il mio passato, sono sempre stato una persona molto creativa. Fin da quando frequentavo le scuole medie e avevo vari progetti con i miei amici, con i miei compagni di classe in cui creavamo dei contenuti distribuiti appunto sui vari social, sulle varie piattaforme. Quindi in qualche modo questa cosa ce l'ho sempre avuto un po' nel DNA. E un altro chiaro segnale di creatività ce l'ho avuto alle scuole superiori quando preferivo fare schemi, evidenziare piuttosto di studiare effettivamente. A parte gli scherzi, la vena creativa in qualche modo è sempre stata una costante nella mia vita. Quindi a stare nell'ufficio commercialista e inserire per otto ore delle fatture nel computer era una situazione che mi stava molto stretta. Avevo bisogno di una valvola di sfogo. Da questa necessità è nato l'Egolize. Dopo l'ora in ufficio, infatti, e tornavo a casa, insieme al resto del team creavamo un sacco di contenuti, ci dedicavamo anima e cuore proprio al progetto. E ovviamente era un tour de force incredibile perché le ore che dedicavamo a tutto quanto erano tantissime. Però la soddisfazione di vedere nascere e crescere, un progetto di questo tipo sicuramente era uno degli stimoli, uno dei motivi che ci faceva andare avanti. Analizzando un attimo il progetto, l'Egolize nasce con l'obiettivo di portare, anche in maniera innovativa, della leggerezza nel mondo dei social. Ma anche prima avevo detto leggerezza, con leggerezza non intendo superficialità. Infatti, spesso i temi che trattiamo, ok, possono essere presi in maniera ironica, irriverente, a volte anche provocatoria, però sono spesso molto attinenti a un tema e delle volte anche profondi. Non sempre, ecco, però delle volte anche profondi. Queste caratteristiche uniche hanno premesso al progetto di raggiungere veramente numeri importanti nel giro di poco tempo e al tempo stesso, vedendo crescere questi numeri, è nato in me, è nato all'interno del team, la necessità di avere più consapevolezza di quello che stavamo facendo. perché ovviamente muovendo tanti numeri si raggiungono tante persone, quindi bisogna sapere come comunicare. Oltre al fatto che, insomma, ora dobbiamo stare attenti perché con i numeri che muoviamo quotidianamente invadere San Marino sarebbe un gioco da ragazzi. Comunque, per acquisire questa consapevolezza un po' alla volta mi sono avvicinato al mondo del marketing e della comunicazione. Mi sono reso conto di quanto comunicare in maniera corretta sia un elemento fondamentale al giorno d'oggi per qualsiasi tipo di progetto digitale. Per questo ho spostato il mio focus appunto verso il mondo del marketing, della comunicazione. Ho fatto diversi corsi, ho studiato in maniera autodidatta e tra cui anche appunto un corso che ho fatto a Milano, io sono di Venezia, insomma si sentirà dall'accento, e ho fatto un corso a Milano e facevo ogni weekend su e giù, facevo spolla tra Venezia e Milano diventando effettivamente il finanziatore numero uno dei servizi ferroviari italiani. Questa esperienza in qualche modo mi ha fatto capire che la strada era quella giusta. Mi piaceva il marketing, mi piacevano le materie, così a inizio 2020 ho mollato il lavoro dal commercialista dopo oltre quattro anni che ero nello studio. L'avevo mollato appunto perché volevo dedicarmi a tempo pieno al progetto sia di Legolize sia di formazione mia nel mondo del marketing. Quindi tra le altre cose io mi ero iscritto anche un corso che dovevo fare a Los Angeles verso marzo 2020, dopo sappiamo come sono andate le cose, io mi ero organizzato, avevo preso i biglietti, avevo preso l'alloggio, tutto quanto e poi boom, la pandemia. Mi sono ritrovato senza un lavoro e con un sogno svanito in pochissimo tempo perché dall'oggi al domani insomma chi è che se lo aspettava. Quindi in qualche modo ho dovuto reinventarmi e anche qui c'è stato un nuovo cambiamento importante. Al tempo stesso cosa abbiamo deciso di fare? La gente in quel periodo era a casa, c'era lockdown, quindi anche noi con il progetto abbiamo deciso di spingere sull'acceleratore, abbiamo creato sempre più contenuti cercando di coinvolgere sempre di più la nostra community e di conseguenza anche i numeri delle persone che ci seguivano e che interagivano con i nostri contenuti appunto sono diventati sempre più grandi tanto che insomma i numeri crescono e di conseguenza molte aziende si sono interessate al nostro progetto perché volevano comunicare, volevano raccontarsi all'interno delle nostre vignette raccontando appunto la propria realtà, il proprio business all'interno delle nostre vignette ad oggi questo è il nostro lavoro perché appunto collaboriamo con tante agenzie e tante aziende e quindi ci guadagniamo da questo tipo di attività facendo a tutti gli effetti dell'attività di influencer marketing e riuscendo a vivere di questo anche se devo dire la verità i miei parenti devono ancora capire cosa faccio effettivamente per vivere dal punto di vista personale in qualche modo sto replicando quello che faccio con Legolize con altre aziende faccio in pratica il consulente in cui replico le strategie che abbiamo applicato su Legolize con queste aziende che vogliono raccontarsi in maniera magari anche innovativa in maniera disruptive per usare un inglesismo e quindi applico tutto ciò che è stato imparato durante questo progetto sicuramente uno degli stimoli che ci spinge ad andare avanti è il fatto che riceviamo tantissimi complimenti da parte della nostra community che apprezza il nostro lavoro e alcune volte riceviamo anche dei messaggi che ogni volta mi spezzano il cuore di persone che dicono che in qualche modo siamo riusciti a migliorare un loro periodo difficile appunto grazie a questa leggerezza citata precedentemente con il cambiamento con la sperimentazione di cose nuove e cercando di non fossilizzarmi troppo negli stessi posti e nelle stesse situazioni sono riuscito a fare tante esperienze che in qualche modo ognuna di esse ha aggiunto un mattoncino per rendermi la costruzione che sono adesso giusto per rimanere un po' in tema con Legolize concludo dicendo che lo so durante questo discorso ho detto un sacco di volte la parola cambiamento questo perché come dicevo in apertura ritengo che il cambiamento sia l'elemento imprescindibile per raggiungere i propri risultati e perché no anche i propri sogni grazie grazie grazie